Come è? Posso definirla? Artista, pittore, architetto, scienziato, ingegnere. Inventore. Non teme le critiche di chi la definisce solo un inventore. Qual è stata la sua più grande sfida? Cos'è per lei la pittura? Qual è il suo metodo di lavoro? Ha delle ambizioni? Quali sono i suoi interessi? Crede in Dio? Vuole svelarci il segreto della sua ricerca. Lei viene da un passato remoto e poi ha scritto molte profezie che si sono alverate. Che cos'è la verità, maestro? E' un genio senza pace. Chi c'è dietro a questo volto? Non è scoprire se libertà ti è cara. E il volto mio è chiarcere d'amore.